E che io sia, che io fossi, che io sia stato Oggigiorno chi corteggia incontra sempre più difficoltà Coi verbi al congiuntivo, quindi è tempo di riaprire il manuale di grammatica Che è, che è molto educativo, gerundo imperativo, infinito indicativo Molti tempi e molte coniugazioni, ma il congiuntivo ha un ruolo distintivo Si usano per eventi che non sono reali È relativo a ciò che è soggettivo e a differenza di altri modi verbali E adesso che lo sai anche tu, non lo sbagli più Nel caso che il periodo sia della tipologia dell'irrealtà Si sa, ci vuole il congiuntivo, tipo se tu avessi usato il congiuntivo Trapassato, con lei non sarebbe andato un po' è male Condizionale, condizionale, segui la consecutio temporum In congiuntivo ha un ruolo distintivo e si usa per eventi che non sono reali È relativo a ciò che è soggettivo e a differenza di altri modi verbali E adesso ripassiamo un po' di verbi al congiuntivo Che io sì, che io fossi, che io sia stato, che fossi stato Che io abbia, che io avessi, che abbia avuto, che avessi avuto Che io sarei il congiuntivo, come ti dicevo Si usa in questo tipo di costrutto sintattico Dubitativo e quasi riflessivo Descritto dal seguente esempio didattico E adesso che lo sai anche tu Non lo sbagli più Grazie! Grazie mille! Io mi sono emozionato tanto Grazie mille, grazie mille A questa orchestra straordinaria Grazie maestro di avermi fatto questo regalo Che questo è un regalo che io mi prendo e mi metto in saccoccia E mi porto a casa Ma siamo, cioè mamma mia che bellezza Siamo arrivati alla fine Vediamo se capisco poi dove siamo Come scusa?